I giovani sono il futuro, da questa considerazione che dice tutto quanto siano importanti i giovani nel territorio, non solo a Taurisano ma dappertutto, quindi i giovani devono essere il futuro e l'importanza che hanno è immensa. Quindi Taurisano sta ponendo delle politiche, delle azioni e sta provocando una nuova strada, quella di dare molta attenzione ai giovani, ponendo seri studi di raccolta dati, abbiamo visto proprio questa sera in occasione di questo convegno su identità, sicurezza e legalità, poi delle azioni che rivolte per creare proprio delle strutture, strutture che si rivolgono ai giovani e abbiamo visto proprio questo, che i giovani cercano e vogliono sul territorio, quindi strutture aggregative dove i giovani si possono incontrare, possono vedersi e relazionare con il prossimo. Semi quali legalità e responsabilità etica sono strettamente connessi all'esperienza normativa individuale, che sul piano fenomenico è rappresentata da particolari abilità sociali, confrontarsi con le norme di condotte, lavorare regole di interazione, orientarsi tra vincoli del contesto, relazionarsi con le istituzioni, maturare il concetto della responsabilità individuale e comunitaria sono stati i primi passi compiuti. La cosa fondamentale è quella di sviluppare, come ho detto un attimo fa, un po' di civismo soprattutto, cominciare con dei piccoli passi. Se riprendiamo la buona abitudine di eseguire le regole, con questo non voglio dire che non vengano osservate, ma delle isole in addendenza ci sono, e cominciamo a scuola, cominciamo nel momento in cui ci scogliamo col motorino o con la macchina. Le piccole regole, quelle che disciplinano la nostra attività ogni giorno, sicuramente diventeremo tutti cittadini migliori e poi sapremo fronteggiare quelle esigenze diverse che vengono dalla necessità di essere anche rispettosi delle norme più impegnative, diciamo. Grazie